Almeno due persone sono morte in Germania nello scontro frontale avvenuto tra un treno pendolari e un treno merci. Restano ancora da chiarire le cause dello scontro sulle quali gli inquirenti tedeschi stanno indagando. Secondo la polizia tra i morti potrebbe esserci il macchinista del treno passeggeri che al momento della collisione trasportava almeno 20 persone. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Eichach in Bavaria. Alle 21.15 circa i due treni si sono scontrati vicino alla stazione. Un regionale proveniente da Augusta si è scontrato con un treno merci che era fermo sul secondo binario. Per il momento la polizia sta indagando per capire a quale velocità andasse il treno passeggeri e se a causare l'incidente possa essere stato un problema di segnaletica.